Le immagini riprese dopo la fine del massacro lasciano immaginare la modalità dell'attacco. Abbiamo scelto di risparmiarvi le immagini più scioccanti. Qui potete vedere però la quantità di colpi sui muri e anche segni di alcune esplosioni. Il commando è rimasto a lungo tra queste mura sei uomini armati di fucili mitragliatori e con giubbotti imbottiti di tritolo. Il portavoce dell'esercito spiega. In questo locale ci sono i segni delle pallottole, ma poi anche sei di loro sono stati uccisi qui. Siccome indossavano giubbotti esplosivi, sono saltati in aria e per questo vedete anche i buchi nel muro e vedete anche i frammenti per terra e sul soffitto. Nell'auditorium si è registrato il maggior numero di vittime. È il locale più vicino all'ingresso e al momento dell'incursione vi si teneva una lezione di pronto soccorso a classi unificate. È il locale più vicino all'inforzata. Grazie.